Affrontare la camminata sul fuoco richiede un lavoro sulle proprie paure e un'assunzione radicale di responsabilità. Fare, via, giù, quella lì, entrate perché se state se ci spasso o non ci passo, tornate via. E poi è un po' caldino, mi è andato a venire. E beh, guarda, è un'impresa straordinaria, l'anno prossimo lo rifaccio. No? È stato bello, molto interessante, anche perché mi sono fatto un regalo, l'ho fatto fare alla mia nipote di 18 anni, che pensava fosse impossibile fare una cosa del genere, invece l'abbiamo fatto insieme. Io ho una botta di adrenalina subito prima di mettere il primo passo e poi dopo il liberatorio. Io ho una botta di amici.